Il prefetto di Trieste, annunziato Vardè, ha costituito un'unità di crisi per l'emergenza ucraina per governare il flusso di profughi al confine. Il tavolo si riunirà ogni giorno per individuare le cose da fare in aiuto sia di chi è semplicemente in transito, sia di chi intende fermarsi sul nostro territorio. Al tavolo siederanno le istituzioni, le forze dell'ordine, le autorità sanitarie e scolastiche e gli enti che gestiscono le strutture riconducibili alla prefettura. Oltre alle associazioni impegnate nell'assistenza ed accoglienza dei profughi. La regione intanto cerca persone che sappiano l'ucraino e il russo in grado di fare da mediatori linguistici. E' stato pubblicato sul sito della regione un avviso cui si può rispondere per fare da tramite tra le persone che arrivano e le istituzioni italiane.